Buongiorno e ben ritrovati, oggi vogliamo realizzare un progetto di una rete logica per l'accensione automatica delle luci di un sentiero utilizzando solo port in hand. Abbiamo quindi questo sentiero con delle luci posizionate a led e l'illuminazione può essere fatta o mediante un interruttore, quindi manualmente, oppure mediante un sensore di movimento collegato con un timer e con un sensore crepuscolare. Il sensore è caratterizzato dal fatto di fornire un 1 logico, quindi 5 volt in condizioni di luce e 1 0 in condizioni di buio. Allora, per prima cosa dobbiamo andare quindi, seguendo i passi della progettazione, a individuare quelle che sono le variabili di ingresso e le variabili di uscita. Quindi abbiamo detto che in ingresso avremo variabili di ingresso, abbiamo il nostro, lo chiamiamo IL, interruttore luci manuale. Poi abbiamo, mettiamo ST, che è il sensore movimento e timer, associato al timer, e SC, il sensore crepuscolare. Quindi, come uscita, quindi variabile di uscita è una sola, abbiamo l'illuminazione del nostro sentiero, che chiamiamo YL. Quindi, allora, come i livelli, ovviamente non li sto a specificare, l'interruttore delle luci, 1 da livello alto quando è attaccato, 0 quando è spento, è idem il discorso dei sensori, quindi il discorso, abbiamo detto il sensore crepuscolare, 1 in condizioni di luce, 0 in condizioni di buio, e il sensore di movimento, 1 in condizioni di passaggio di qualcuno, 0 quando non c'è passaggio. Allora, a questo punto andiamo a creare la nostra tabella di verità e andiamo a specificare quando abbiamo l'illuminazione del sentiero. Quindi, tabella di verità con tre ingressi e un'uscita. Bene, ecco qua la tabella di verità, i nostri tre ingressi e andiamo a vedere che cosa succede all'uscita. All'uscita, quindi abbiamo 0, 0, 0, abbiamo sostanzialmente l'interruttore OFF, il sensore movimento e timer OFF e le condizioni di luce, quindi sicuramente non ci sarà illuminazione. Poi abbiamo, quindi, interruttore OFF, sensore movimento e timer OFF e invece condizioni di buio, però non è attivato nullo, e quindi le luci sono comunque spente, dopodiché abbiamo l'interruttore staccato, quindi abbiamo il sensore di movimento attivo e abbiamo le condizioni di buio e quindi in questo caso abbiamo un 1, quindi sono accese. Poi abbiamo 0, 1, 1, quindi qua abbiamo comunque il movimento, ma abbiamo l'illuminazione, quindi abbiamo la luce, quindi no. Allora, andiamo a mettere un po' più piccole perché sennò si spasano malamente. Ok? Poi abbiamo 1, 0, 0, quindi in questo caso qua l'accensione manuale, quindi sicuramente 1, e così in tutte le altre perché quando l'interruttore delle luci viene attivato, le luci si accendono automaticamente senza bisogno di altri interventi. Bene, con questo allora andiamo a vedere come estrapolare l'uscite, quindi andiamo a creare la nostra mappa di Carnot e andiamo a compilarla. Bene, andiamo a compilare la nostra mappa di Carnot, quindi qua avremo 0, 1, 0, 0, quindi 0, 0 qui, 1, 0, 1, qui, 1, 1, 0, qui e 1, 1, 1, 1, qui. Bene, questo come raccoglimenti possiamo fare questo da 4 e poi farne un altro così da 2. Andiamo ad estrapolare la nostra uscita YL, quindi prima raggruppamento rosso, abbiamo IL che non varia, quindi IL così, ST che varia esattamente come SC e quindi rimane così. secondo raggruppamento verde, abbiamo IL che varia da 0 a 1, quindi nulla, ST invece rimane 1 e 1 qui e SC che non varia e andrò a negarlo. Ok, quindi così andiamo ad avere la nostra uscita. Ora, dobbiamo andare a realizzarla con le sole porte NAND, quindi avremo bisogno comunque di andare a creare con la NOT e con la NAND, quindi cortocircuitando gli ingressi, poi una NAND, quindi NAND più un'altra NAND a NOT e poi LOR. Quindi andiamo a vedere come poterle creare. Ecco qua, così è realizzato in modo normale, quindi con le varie porte e così con la sintesi NAND. Quindi andiamo a vedere nello specifico, qua poi non ho più ricollegato le resistenze di pulldown per garantire lo zero logico quando gli interruttori sono scollegati e così via. Allora, qua abbiamo il NOT che viene fatto con una NAND cortocircuitando gli ingressi, e qua in effetti manca il collegamento, qua il contatto, quindi qua esce SC negato, dopodiché questa NAND viene fatta con una NAND e poi negata, quindi tutto questo blocco qui è questo, e quindi da qua esce praticamente ST, vado a metterlo così, qua così, qua esce questo qui, e poi questo è il blocco per fare la OR, quindi da qua, quindi da quando esce ST, SC negato e poi IL che vanno in OR, quindi ci vogliono due NOT in ciascun ingresso e poi un'altra NAND e tutto questo fa la NOT. Allora, fa la OR. In questo caso, che cosa vediamo? Dobbiamo anche ragionare, una volta, adesso pensate che non ci siano questi requadri azzurri, sappiamo che possiamo andare a semplificare in questo modo, lo metto in verde, qua e qua abbiamo una NOT e un'altra NOT, e quindi in realtà queste due si possono cancellare. E quindi in questo caso ci rimane uno schema così, qua, poi da qui va l'altro ingresso e ci rimane uno schema con 1, 2, 3, 4 NAND, quindi è possibile utilizzare un solo integrato. Bene, con questo l'esercizio è concluso, spero di essere stata chiara, se vi è stato d'aiuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani per un altro esercizio.